Ciao a tutti amici. Daniel e David sono due bambini nati da genitori neri, ma loro hanno ricevuto due tipi di colori di pelle diversi. Anni dopo è successa una cosa che ha stupito il mondo. Stessi Omirin e Baba Jaid, dalla Nigeria, sono una coppia di sposi novelli. Durante il loro periodo di fidanzamento avevano già avuto il primo figlio, anzi figlia, di nome Demi. Quest'ultima spesso aveva chiesto di avere un fratellino o una sorellina, perché si sentiva sola. Così, quando lei ha compiuto i quattro anni, i genitori hanno deciso di accontentarla. Anche loro volevano qualcuno in più in casa. Ecco così che dopo un po' di mesi è rimasta incinta di David e Daniel. Non immaginavano però Stessi e Baba Jaid tutto ciò che stava per accadere. Una cosa che nemmeno i medici potevano prevedere. David e Daniel avrebbero avuto due colori di pelle completamente diversi. Demi immaginava un futuro in cui c'era un fratello o una sorella, ma non di sicuro un futuro dove sarebbero arrivati due gemelli così particolari. Daniel è uscito per primo, durante un parto molto difficile e lungo. Era sano ed era ovviamente africano, nero, con il colore della pelle che si stava formando ma che poteva già mostrare come i geni dei due genitori fossero presenti e forti. La situazione cambiò con l'arrivo di David, che invece era tutt'altro. Già dalla nascita i medici e i genitori erano rimasti un po' perplessi. In Nigeria ci sono molte superstizioni e perciò i genitori pensarono che fosse successo qualcosa di particolare a David perché non era dello stesso colore del fratello, anzi era molto, molto bianco e pensavano di aver fatto arrabbiare qualche spirito e che la loro fede nella religione fosse stata vana. Le avevano pensate tutte quando i medici hanno dato loro David, ma per fortuna qualcuno era arrivato a fare un po' di chiarezza. Quando Stacy si è svegliata ha scoperto che i bambini erano molto diversi tra di loro e insieme al marito ha cominciato a fare molte ipotesi tra cui rivangare alcune superstizioni, ma finalmente un medico entrando ha spiegato una cosa. Uno dei piccoli, cioè David, era albino, una condizione rara ma che poteva accadere per vari motivi. È una malattia ereditaria molto rara che si manifesta a causa della mancanza di melanina. Il colore della persona varia in base al livello di melanina nel corpo e in alcuni casi manca quasi del tutto e il soggetto è completamente bianco, come nel caso appunto di David, che aveva anche i capelli biondi. Fu quasi uno shock per l'ospedale e i genitori ma dopo la spiegazione del medico le cose si sistemarono un po'. I genitori cominciarono a vedere una bellezza molto profonda e diversa in lui, una bellezza che li aveva accecati quasi. Ritornati a casa le sfide furono tante e abbastanza difficili negli anni. David aveva bisogno di cure particolari e medicine. Anche Demi era rimasta incantata. «Mamma, come mai lui è così?» chiedeva spesso senza capire mai la risposta, ma non lo faceva per dispetto o altro. Pensì per pura curiosità. Voleva bene ad entrambi i fratelli appena arrivati e negli anni insieme alla famiglia ha imparato a difenderli. Nella città in cui abitavano c'era infatti molta discriminazione verso la famiglia a causa della pelle di David. I residenti pensavano fosse un bambino maledetto e che potesse portare Shagura, ma Demi era sempre pronta a difenderlo insieme ai genitori. La vita non fu affatto semplice. Pensate che in alcune parti della Nigeria le albini vengono anche mutilati delle parti del corpo, ma non per odio, perché si pensa ancora oggi che portino fortuna. I genitori dovevano tenere più di un occhio aperto quindi ogni giorno per il loro David. Tre anni più tardi hanno cominciato a portarlo insieme a suo fratello in zone con molti bambini per vedere se sarebbe riuscito a fare amicizia, ma ovviamente non fu facile nemmeno ciò. I genitori tenevano lontani i loro figli e alcuni dicevano che se si fossero avvicinati troppo ci sarebbe stato un grosso problema e tanta Shagura si sarebbe abbattuta su di loro. Queste voci avevano impedito i primi tempi a David di ambientarsi, di farsi degli amichetti. All'età di 4 anni la sua vita era diventata alquanto solitaria e spesso chiedeva, mamma ma perché io sono così diverso? Ma stessi lo consolava spiegandoli che era diverso solo per via della pelle, ma dentro di lui era come tutti gli altri. E poi gli diceva anche che gli altri bambini erano soggiogati da genitori ignoranti. Comunque in tutto ciò, fin dai primi momenti, i giornalisti avevano adocchiato la famiglia, sentendo che in città c'era un bambino albino. Volevano quindi a tutti i costi intervistarli e fare foto, ma i primi due anni i genitori non si fecero vedere. Non volevano stressare il piccolo David e non volevano rischiasse la vita inutilmente, finché dopo altri due anni non hanno cominciato ad accettare queste interviste. A quanto pare erano a corto di soldi, non riuscivano a comprare tutto il necessario per il piccolo e la sua condizione. L'unico modo era concedere delle interviste e ricevere dei soldi. All'età di quattro anni e mezzo, infine, arrivò un'incredibile opportunità che nessuno si sarebbe mai aspettato e che aveva fatto conoscere i bambini a tutto il mondo. Durante una delle tante interviste, un fotografo di moda li aveva adocchiati. O meglio, stava guardando l'intervista su un sito nigeriano. Sono bellissimi, disse dopo averli visti. Così si mise in viaggio dall'Inghilterra per poter fare loro visita. Era andato spesso lì per riprendere alcune modelle nere, ma mai avrebbe pensato di trovare una rarità del genere come i due gemelli. Riuscì a trovare in fretta la famiglia, visto che erano famosissimi ai tempi, e chiese loro di vederli entrambi. La famiglia all'inizio pensò che si rivolgesse soltanto a David, ma al fotografo invece, interessavano entrambi i bambini. Insieme sono speciali e bellissimi e possono diventare molto famosi nel mondo della moda. Con queste parole fece i primi scatti che diventarono virali in fretta. I genitori così avevano guadagnato tantissimi soldi per la vendita dei diritti, soldi che però andavano immediatamente messi in una cassa risparmio. Li avrebbero usati infatti i bambini quando sarebbero stati abbastanza grandi. Volevano che dopo la loro dipartita i bambini riuscissero a cavarsela da soli con un po' di soldi. Specialmente David che avrebbe affrontato tante difficoltà da grande. La loro storia è diventata virale e ad oggi stanno crescendo sani e forti, mostrando sulla loro pagina Instagram la felicità di crescere diversi ma uguali.